Occhio di lince, ciao! Sono Edo Tomanz, un insegnante di yoga da più di 15 anni e un specialista in neurologia funzionale. Allora, in base a tante domande che mi hanno fatto in questi giorni e, possiamo dire, anche delle perplessità delle persone o degli insegnanti di yoga che mi chiedono, ma tu non sei un dottore? Per cui come fai a trattare la neurologia? Prima di tutto, lo yoga e neurologia funzionale, c'è un nome ben specifico. Neurologia funzionale tratta veramente la neurologia funzionale per quanto riguarda il movimento. Volevo condividere un slide. Ha avuto origine con il dottor Frederick Carrick, un chiropratico americano, circa più di 15 anni fa. Utilizza le conoscenze attuali, quindi della neurologia, su come funziona il sistema nervoso per intervenire in modo non invasivo, non farmacologico, in certe condizioni neurologiche, per cui non patologiche. Si basa su un concetto di neuroplasticità. Qui sotto c'è il link se uno vuole vedere esattamente da dove è venuto fuori questo slide e invito all'insegnante di yoga, alle persone che vorrebbero andare a vedere, a verificare cosa vuol dire la neurologia funzionale, lasciarò il link dell'academy dove ho fatto la mia formazione in neurologia funzionale, la 4Move Italia a Firenze. Sono il responsabile della 4Move Brasil, chi mi conosce lo sa, ho portato la neurologia funzionale in Brasile dove ci sono da un anno e mezzo che ci lavoro con i professionisti, sia della yoga, sia personal training, professori di educazione fisica, fisioterapeuti, eccetera, eccetera, che seguono i nostri corsi online. Per ora è tutto, iscrivetevi al mio canale e schiacciate la campanella di avviso per i prossimi video. Ci vediamo lungo le strade.